Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati sul canale di progetto. Nel video di oggi andremo ad implementare una comunicazione seriale a due vie, quindi invio e ricezione per entrambi i dispositivi che comunicano, tra Arduino e una Jetson Nano. Naturalmente la Jetson Nano si comporta come un qualsiasi computer, quindi con il codice che vi fornirò oggi sarete in grado di connettere il vostro Arduino con una comunicazione seriale, anche un computer normalissimo Ubuntu oppure Windows o anche Mac. Come sempre sapete che a noi piace andare sul complicato, quindi la comunicazione seriale non avverrà tramite le stringhe, ovvero il metodo più facile, ma andremo a creare delle struct specializzate, proprio come si fa all'interno dei sistemi operativi per far comunicare processi e figli tra di loro, processo padre con processi e figli, in quanto questo è il metodo più opportuno e sarà il caso di andare a specificare la struct ogni volta che andiamo a cambiare il tipo di utilizzo di questo script per la comunicazione seriale. In particolare lo script che girerà sul computer sarà scritto in Python. Ultima premessa prima di andare a vedere il codice, io questo script l'ho scritto principalmente per far comunicare Arduino e la Jetson Nano sulla Rev21, se non avete visto il video ve lo metto qui e quindi dentro la parte codice ci saranno altri spezzoni che non servono. Infine ragazzi mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate un like al video e andiamo a vedere la parte codice. Quindi partiamo subito dal codice per Arduino, vi andrò ad evidenziare i blocchi di codice che dovrete inserire anche voi e inoltre troverete questo codice qui insieme a quello successivo in Python sul nostro profilo GitHub. Voi naturalmente vedete il codice alle mie spalle perché sto utilizzando un green screen, io purtroppo non lo vedo, utilizzerò il telefono con degli screenshot in modo tale da non sprecare carta e dunque potervi spiegare il codice in questo modo qui. Quindi partendo proprio dall'inizio del codice dovete saltare tutte le include e la RFID init. Andiamo subito alla USB Communication Init. Qui troviamo un USB Delay impostato da me a 50 millisecondi. Successivamente utilizzo una variabile Boolean per sapere quando è che devo lavorare in ricezione oppure quando è che devo inviare i dati. Infine siccome devo trasferire soltanto come dati la temperatura della batteria, la tensione della batteria e la percentuale di acceleratore, la temperatura ipotizziamo che non superi i 100 gradi, stessa cosa per la tensione siccome lavoriamo a 48 volt e il throttle arriva massimo a 100 va benissimo dei byte. In questo modo qui risparmiamo anche spazio. Nel void setup andiamo a inizializzare la comunicazione seriale a 9600 baud. L'SPI Begin non vi serve perché appunto serve soltanto al progetto RAV21. In particolare serve per comunicare con la canvas. Se non avete visto il video della canvas ve lo lascio proprio qui. Successivamente ho aggiunto un pin mode 12 output dove ho collegato un LED dove l'altro terminale del LED va a massa per poter vedere quando è che stiamo comunicando e quando è che stiamo ricevendo. Se volete aggiungerlo potete farlo. E dunque per questa parte qui insomma abbiamo fatto. Passiamo successivamente alla Send Data to Jetson, questo blocco di codice. Allora io devo inviare tre valori, in particolare tre interi, va bene metterli interi all'inizio e la funzione restituisce un intero, quindi INT USB Transmit con V1, V2 e V3. Innanzitutto se la comunicazione seriale non è disponibile per la scrittura noi andiamo a ritornare 0. Quindi il valore 0 come valore di ritorno dice che, questo l'abbiamo impostato noi, che l'invio dei dati non è andato a buon fine. Successivamente andiamo a creare un pacchetto pack, ovvero una struct chiamata packet, dove pack.batterytemp prende V1, poi inseriamo V2 in pack.batvolt e pack.trotto l'uguale a V3. A posto così abbiamo inserito i dati nella struct, la serial write restituisce il numero di byte inviati se la comunicazione va a buon fine oppure 0 se non invia niente. Quindi noi ce li salviamo in un size tx e intanto scriviamo serial write di byte, gli passiamo l'indirizzo della struct e successivamente serve la dimensione dei dati da inviare, infatti virgola, size of pack. Infine se x non corrisponde a size of pack ovviamente c'è stato un errore di invio e dunque ritorniamo 0 ed è la parte codice dove c'è l'else, altrimenti ritorniamo 1. Qui è importantissimo il serial flush perché così la comunicazione attende l'invio di tutti i dati prima di terminare. Passiamo al pezzo di codice della ricezione. Partiamo subito con un serial flush per liberare il buffer in ricezione. Se la comunicazione seriale non è disponibile ritorniamo 0, quindi in successo non siamo riusciti. Size t lo inizializziamo a 3, variabile che si chiama bytes, e andiamo a creare un buffer di 3 byte. Infatti vedete che ci passiamo bytes all'interno. Intx uguale a serial.readbytes.buffer.bytes, in sostanza ritorna il numero di byte letti che noi andiamo a salvare qui in x. Successivamente cosa fa questa funzione? Va a leggere dalla comunicazione seriale un numero di bytes pari a bytes e li mette dentro a buffer. Sapete che bytes è 3, quindi ne leggerà 3 e li mette tutti dentro a buffer in automatico. Se x è diverso dal numero di bytes che dovevamo leggere, ovviamente si è verificato un errore, return 0, altrimenti return 1. Infine, per quanto riguarda il void loop, se non stiamo ricevendo, significa che stiamo inviando, quindi if not receive, if USB transmit, quindi ricordate che la USB transmit ritorna sia 0 che 1 in diversi casi, in questo modo se la mettiamo nell'if, prima manda i dati e poi ritorna il risultato che viene valutato dentro la if. In sostanza, sapete che il valore 1 è sempre il valore di successo, l'abbiamo impostato così noi il codice, e se la comunicazione è andata a buon fine, impostiamo receive 1, così passiamo al blocco di codice successivo. Al prossimo giro del void loop, if receive sarà falsa e di conseguenza andrà nell'else. All'interno dello stesso blocco di codice ho messo un USB delay, con delay, e un digital write 12i, quindi vedrete il LED illuminarsi quando staremo inviando dei dati da Arduino verso il computer, verso la Jetson. Nel blocco di codice dell'else, invece, abbiamo USB receive, if USB receive, stesso discorso di prima, se riceviamo tutti i dati correttamente, allora è positivo, e impostiamo receive a 0, perché abbiamo ricevuto tutto quello che volevamo, al prossimo giro andiamo a inviare i dati. E anche qui all'interno c'è uno USB delay, e infine impostiamo il LED a valore basso, quindi si spegnerà. Per quanto riguarda invece lo script Python, innanzitutto hashtag, punto esclamativo, slash, usr, slash, bin, slash, python. Questo qui è necessario se andiamo ad eseguire lo script da linea di comando. Vi ricordo che io l'ho sviluppato su Ubuntu. Successivamente dobbiamo importare serial, time, struct, ctypes e traceback. Qui ci sono alcuni parametri che ho impostato io che servono a me, max temp e min temp, min volt, e USB delay, inseritelo anche voi. E successivamente impostate receive a 1. Infine, create global data come una tupla di 3 0. La parte di checking incoming data non vi serve, serve a me, andiamo avanti. Per quanto riguarda la ricezione di dati da Arduino, andiamo a definire receive data, e gli passiamo ser, che è la seriale, struct variables, che lo vedremo nel main, che cos'è, e struct size. Controlliamo serial in weighting, se è uguale a 0 ritorniamo 0, significa che non stanno arrivando dati, quindi è neanche inutile stare ad ascoltare. Impostiamo data tutto uguale a 0, una tupla di 3 0. Dentro a 2 try andiamo a prendere row data, che è uguale a serial.readline.ser.inweighting, che sarà il numero di bytes, ser.inweighting, e nel buffer andiamo a inserire con ctypes.createStringBuffer, gli passiamo row data e struct size, quindi in sostanza da dei valori, da dei bytes ricevuti dalla comunicazione seriale, va a ricostruire la struct in questo modo. Data sarà uguale a struct.unpack di struct variables, quindi le variabili della struct, e il buffer. In questo modo avremo sostanzialmente recuperato una struct con 3 bytes. Infine andiamo ad impostare global data uguale a data. Nelle acceptValueError mettete tranquillamente PES, nell'acceptSerial.serialUtil.serialException, printConnectionErrorRetrying. Spesso si verifica questo errore quando andate ad aprire il monitor seriale. Mi raccomando, non mettete alcuna printLine o print nel codice di Arduino, altrimenti state inviando dei bytes nella comunicazione seriale. Anche qui, se in data è contenuto uno zero, significa che non abbiamo ricevuto niente, oppure dei dati sbagliati, e scartiamo quello che abbiamo ricevuto. Altrimenti, se tutto è andato a buon fine, ritorniamo un 1. Successivamente andiamo ad inviare i dati ad Arduino con la sendData, alla quale passiamo sempre serial e structVariable. Per quanto riguarda l'invio dei dati ad Arduino, sendData, l'andiamo a definire, alla quale passiamo serial e structVariables. Il risultato sarà dato da checkData, praticamente mi fornisce i dati che voglio inviare. In sostanza, i dati che volete inviare dentro al result, ci deve essere una tupla con tre numeri all'interno. Successivamente andiamo a scrivere packet uguale a struct.pack, andiamo a pacchettare, di structVariable e asterisco result. Con asterisco viene smontata la tupla e vengono passati i tre byte. Successivamente andiamo a scrivere con x uguale a ser.write di packet. Ritorno ovviamente il numero di byte scritti, se x è uguale a zero, ritorniamo zero. Se serial punto outwaiting è uguale a zero, ritorniamo zero. Se non ci sono byte in uscita, ritorniamo zero. Inseriamo un ser.flash per attendere che la comunicazione seriale abbia terminato di inviare i dati. E infine ritorniamo uno. Nel main invece, ovviamente, if name uguale a main, per definire dove è il main, come porta andiamo a definire la dev TTI USB 0 su Ubuntu. In ogni caso dovete impostarla voi, andatela a verificare da Arduino, come si chiama la porta sulla quale state comunicando. Andiamo a impostare la baud rate a 9600 baud, deve essere uguale a quella scritta su Arduino. Successivamente andiamo a creare ser, che è uguale a serial punto serial di port baud rate e timeout uguale a 5. Successivamente bisognerebbe far ser punto open, però quel ser punto close, eventualmente, se è rimasta aperta, la chiude prima. E poi la riapre. In ogni caso funziona, potete fare come ho fatto io. Struct variables va a definire quali variabili ci sono nella struct. Qui vedete che la parentesi angolare definisce Little Endian e poi ho 3 byte scritti con la B grossa. Per qualsiasi cosa, se volete inviare altri dati, non chiedete a noi, andate sulla pagina di serial di Python, quindi PySerial. Lì c'è scritto tutto. Successivamente struct size sarà dato da struct.coilksize.structvariables, quindi calcola in automatico la dimensione e in un ciclo infinito, come dentro ad Arduino, se siamo in ricezione, allora facciamo un flash e poi ser receive data di ser, struct variables e struct size, quindi se abbiamo ricevuto correttamente e all'interno dell'if, chiamando la funzione, la esegue anche, allora impostiamo reserve a 0, che significa che dobbiamo inviare dei dati. E qui con time.sleep di USBDelay diviso 1000, siccome la sleep è in secondi e noi lo mettiamo in millisecondi, andiamo ad impostare un delay di 50 millisecondi. Nell'else, se stiamo inviando, allora chiamiamo sempre la funzione dentro all'if, così viene eseguita anche la funzione contemporaneamente al controllo, gli passiamo ser e struct variables e se ci ritorna 1 significa che abbiamo inviato con successo i dati. Quindi impostiamo receive a 1, al prossimo giro di ciclo andiamo ovviamente a leggere. E anche qui notate che c'è un delay di 50 millisecondi. Al di fuori di tutto, al di fuori del ciclo while, naturalmente serial.close alla te al termine del programma. Muzica 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 Quindi ragazzi avete visto che la comunicazione seriale tra Python e Arduino è relativamente semplice Purtroppo non ho trovato niente online e ho deciso di fare questo video Molti di voi su Instagram hanno richiesto la pubblicazione di questo video Spero che vi sia stato utile, in tal caso lasciateci assolutamente un like Mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi episodi Lasciate qui un commento nel caso aveste bisogno e seguiteci sui nostri social per rimanere sempre aggiornati E noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ciao!